Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoporte. Oggi siamo in compagnia di Rossella Cinque. Ciao a tutti! Che ci aiuterà in questa bellissima canzone di... Lorena Bertè con Figlia D. Yeah! Bene ragazzi, questa canzone si compone di cinque accordi che sono il Si minore, quindi se questo è il Do indietro c'è Si, Re Fa diesis, ormai il Si minore, poi c'è il Mi minore, Do Re Mi, Mi Sol Si e Mi minore, poi avremo Fa diesis maggiore, quindi se questo è il Fa, Fa diesis lo troviamo qui sulla destra, La diesis, Do diesis. E poi avremo anche il Sol maggiore, quindi proprio accanto Sol, Si, Re, e il Mi, che prima abbiamo suonato minore, adesso suoneremo Mi maggiore, quindi anziché Mi Sol Si sarà Mi Sol diesis, Si. E la canzone, la conosciamo bene ormai, comincia così. Sono figlia di una certa fama, sono una figlia di, figlia di, Loredana. Loredana, col mascara e la bandana, sono una figlia di, figlia di, Loredana. Come abbiamo visto, ci sta una volta il Si, una volta il Mi minore e due volte il Fa diesis, poi avremo Sol maggiore due volte, Mi maggiore due volte. E la canzone fa sempre così, anche nella strofa. Vi facciamo ascoltare. Ho fatto invidia e ho fatto pena, ho fatto tutto, tutto da sola, non senti il graffio lungo la tua schiena, era per dirti che ci sono ancora. Sono il padre delle mie carezze, è la madre delle mie esperienze, sono una figlia di una certa fama, Sono una figlia di, figlia di, Loredana. Ok, e poi può riprendere, Loredana. Ok, voi potete ovviamente fare la ritmica che vi piace di più. Io per semplificare, sto mettendo gli accordi, in maniera semplice, ma ritmicamente. Potete fare un po' quello che volete, divertitevi con la ritmica. Poi andando avanti, gli accordi sono sempre gli stessi sull'asso per il tornello e nello special, che adesso vi facciamo ascoltare, si aggiunge un accordo nuovo che è il Re maggiore. Quindi se questo è il Do, dove ci sono i tasti neri, a sinistra, accanto abbiamo il Re. Fa diesis, La, forma il Re maggiore. E la canzone che viene sempre da questi tre accordi, poi inizia con il Sol e comincia lo special. Ok, e poi la canzone va avanti sempre con i stessi accordi fino alla fine. Bene ragazzi, come abbiamo visto anche questa era una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoporte. Io ringrazio Rossella. Ringrazio io il maestro. Grazie a te. E vi lascio come sempre in descrizione un link su dove trovate il testo con gli accordi. Poi altri due link per imparare gli accordi al pianoporte ed in più la titeggiatura per entrambe le mani. Se voleste accompagnarvi anche utilizzando la mano sinistra, c'è una puntata su questo canale che parla di come poterlo fare, quindi vi lascerò i link anche di quella. Bene, grazie ancora maestro. Grazie a te, salutiamo tutti e alla prossima. Ciao.